Saluti e benvenuti, saluti novasa di oggi, 17 di Meseradamini, 2017, in chiusa con carbonia una truma di distrauso, si puntato via su un via Barbagia, poi carregai uno container di mandai in Africa. Uomini si è femmina di origini senegalese e nigeriana, poi una scantudisi si è occupato s'aria, poi avremo il suo container di bistimenta ruschettotto, con la savona della tramudaglia Castello, poi un barcaio, per una irregolarità, ma poi all'incunno vi erano occupazioni abusive e dunque si è nata di donnavo avviso a questa polizia municipale che a pustisi di questo intervento annauga viattotto a posto. Dao su a Nebida, Porto Banda, Serrao dei Sumesi di Augusto, località di briferia dei Nebirezzo su Mavizzese, attrazioni turistiche. Tutti uomori di Sarutrocio e di Goncaesi di Savarete e di Manca, che hanno obbligato il suo comune a intervenire con il suo transente e femmine da chi verrà uno si può raccostare. Pumutai scosese e nasce una truma che i vari si antimpunano conca a Sigea o pregontai ai tavunti, viante straballoso. Sigea deve artizzare a Crarao che straballoso si chinti e possistare i geniti in Evidezzo, santa Poli d'Orraia, sallaggian a Soro, insumesi di Donia San, non c'erressi un attimo a Tobio. Carbonia, lunisi 23 di Meseradaminis, istituto di istruzioni superiori IPA, Emanuela Lui da Carbonia, a Raffai un attimo a Pizzo del suo fenomeno della droga, apparigiao di Sardegna solidale, di Souser, con sa giuro di Canale 40. Il straballoso si antaggiziai a Snoio e Quarto, con sa proiezioni di uno video a Parigiao di Canale 40, apposte di una visita a comunitari sociali Ponte di Uta, con i bocisi e sestimonianza di chini sa comunitari da bibili, sia raccomandante operatori, sia raccomandante ospiti, plus che tutto il suo ultimo su conto, andasse esperienza con sa droga e il suo percorso chianti vattubo un DSI. Apusti si desa l'Urusu desa dirigenti scolastica Rosana Sardu, Andrea Piras, referenti CSU Sardegna solidale Carbonia, Paola Massida sindico de Carbonia, Luca Pizzuto consiglieri regionali e Emanuele Cami, deputato, ando a intervenire in carità del relatorisi, Paolo Laudicina, presidente del SAG Operativa Sociali Ponte e Raffielli Pittau, psichiatra, responsabili SER de Carbonia, ara serai straballoso, gli addessi a Parigiao su de Manolo Muredu, Giampiero Farru, responsabili regionali del Sardegna solidale. Carlo Forti, una noa del sport, apustisi dei cinque partiti a sa ufficialisi, sa squadra adesso Carlo Forti mudera allenatori, a suo posto del Tonipo Matta, a sa ghida de sa squadra, già in de sa nuova sa, a rallompi Massimo Comparetti, che agli aggirau sa squadra, una scanta a Nuffairi, un incarico de in Porto con Comparetti, in una squadra che una sa promozioni, con una trumma competitiva e plus che tutto vragata, con giun paia sa categoria, Prusarta e Serrauso, un'una noa de cultura, Carbonia, sigiri, sa mostra, non credo ai miei occhi, de Tonino Casula, a sa fabbrica de su cinema, in sa miniera de serbario, de lunisi a sa giovia, dei sdegi ai sessi de Merì, e de cenabra su domingo, invece di sa mostra, le soverta, dei sdegi di Amangiano, ai sottu de Merì. E questa via, su ultima noa, vi ho informazioni in sardo, di oggi, grazie a tutti, su desse Sighi, un'una in corso, e adioso. Sighi Sighi